I carabinieri di Gioiosa Marea, nel Messinese, hanno tratto in arresto un 58enne del luogo condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale e atti persecutori aggravati, reati commessi dal maggio 2018 nei confronti dell'allora fidanzata. L'uomo, tramite continui comportamenti violenti, molestie e minacce rivolte alla propria compagna anche telefonicamente, ha intimidito la vittima manifestando più volte l'intenzione di pubblicare filmati e fotografie sessualmente esplicite nel caso in cui si fossero lasciati. La donna è stata anche pedinata e costretta, in una circostanza, persino a subire un rapporto sessuale completo nonostante gli incessanti rifiuti. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla sostituzione della pena detentiva in carcere con quella della detenzione domiciliare per lo stesso arco di tempo. Pertanto i militari della stazione Carabinieri di Gioiosa Marea, dopo aver ricevuto l'ordine per la carcerazione, hanno subito notificato il provvedimento al 58enne, arrestandolo e conducendolo nel proprio domicilio.